buongiorno buongiorno a tutti carissimi bentornati in questo spazio di riflessione e condivisione oggi riflettiamo su un fatto tragico che però nella tragedia ci sta dicendo un qualcosa gridando sto parlando della morte del dottor giuseppe de donno questa morte non è per nulla inutile anzi anzi può divenire un qualcosa di molto importante speriamo di non lasciar scivolare via una grande possibilità di non farcela scivolare fra le dita come acqua allora perché è una morte drammatica tragica ma importante perché giuseppe de donno ex primario di pneumologia dell'ospedale di mantova fu uno dei principali fautori della cura al coronavirus con plasma iperimmune non so se ve lo ricordate so che chi mi segue è informatissimo credo che molte persone tra i cittadini comuni siano più informate sui dati sui fatti internazionali più di tanti virologi e medici da salotto televisivo che sembra che leggono più che altro un pizzino ripetano delle cose non si accorgono di contraddizioni di omissioni non si accorgono di niente allora voi sapete che de donno provò la terapia del plasma iperimmune con enorme successo diffuse questa sua scoperta a livello globale mondiale e venne immediatamente aggredito e marginato criticato gli fu sottratta la sperimentazione che poi cadde nel nulla io ricordo quest'uomo come un uomo di poche parole ma sobrie e fondamentali illuminanti definì la terapia del plasma immune iperimmune come una terapia del popolo per il popolo disse di questa terapia che era uno strumento economico fuori dalle logiche di big pharma dei grandi capitali dei grandi interessi si definì un medico di campagna che non aveva appunto nulla che spartire con i grandi poteri ma solo con la tutela della salute pubblica il bene delle persone che curava quindi un medico ecco io non lo so se i virologi da salotto i medici sempre ben pagati e presenti attraverso gli schermi siano totalmente in mala coscienza o siano obnubilati dal successo da dalla loro immagine vista replicata a rete unificate praticamente dalla mattina alla sera questo non lo so non lo so se i giornalisti siano ricattati costantemente una cosa è certa dedonno parlò di una terapia quella del plasma iperimmune come una terapia che poteva salvare vite da subito senza lasciare le persone in vigile attesa a prendere una tachipirina poi abbiamo avuto molti altri medici che hanno tentato di portare altre soluzioni che potevano evitare questo scontro omicidiale sociale tra chi desidera vaccinarsi e chi non vuole vaccinarsi ma soprattutto ripeto che potevano salvare tantissime vite ricordiamo amici aggredito con una violenza inaudita da vespa bella vite dopo aver detto che i vaccini probabilmente hanno una percentuale di effetti collaterali ben più alta di quella comunicata a reti unificate sempre è stato sostanzialmente gentilmente messo alla porta dall'università con la quale collaborava quindi noi vediamo ripetutamente dei medici che non appena offrono una soluzione alternativa alla vaccinazione vengono distrutti questa morte non è inutile è un segnale fortissimo importante perché ci impone di ricordare cosa ci aveva detto de donno cosa aveva fatto e cosa aveva subito ed ecco che in questo breve video desidero leggervi come viene trattato nuovamente questo aspetto così negato cioè il fatto che alcuni medici alcuni scienziati importanti internazionali abbiano parlato di cure rapide efficaci precoci che possono potevano possono salvare molte vite e anche fermare questa spirale di follia e di sofferenza psicologica e sanitaria allora un giornale per tutti libero fa questo articolo giuseppe de donno la ghiacciante teoria di alessandro meluzzi prende meluzzi per costruire un articolo vuoto che non porta nulla se non a sporcare in un certo modo sia meluzzi che de donno all'interno di teorie complottiste quando in realtà non c'è nulla di complottista adesso vi leggo un secondo scrivono una morte anzi un suicidio che scatena sospetti e complottismi iniziare già così vuol dire mandare in vacca completamente il discorso scusate termine non particolarmente elegante ma rende l'idea perché nella mente delle persone ormai sentir dire sospetti e complotti significano vax significa sciocchi terrapiattisti e tutto il corredo dopo aver aperto squisitamente in modo così eccelso proseguono si parla della tragedia scusate si parla della tragica fine di giuseppe de donno l'ex primario di pneumologia dell'ospedale di mantova trovato senza vita nella sua casa de donno sostenuto anche dalle iene di italia 1 cioè non de donno sostenuto da centinaia migliaia di medici a livello internazionale dalle iene di italia 1 che quando servono per distruggere qualcuno sono ottime quando servono appunto per appoggiare qualcuno sono le iene comunque questa passiamo però si sono dimenticati dell'appoggio e del consenso internazionale che ebbe vabbè fu uno dei principali fautori della cura al coronavirus con plasma iperimmune una cura che di fatto non ha mai trovato terreno fertile ed è proprio questo il fattore che ha scatenato i complottisti dopo inizia l'articolo a tirare fuori meluzzi il complotto meluzzi meluzzi semplicemente scrive de donno è morto perché non era uno di loro ma non illudetevi potete uccidere un uomo ma non le sue idee basta questo è quello che ha detto meluzzi che viene subito iscritto in un paradigma di complotti cospirazioni vi devo tradurre a voi giornalisti così intende meluzzi intende dire che non era uno del sistema del business di big pharma e pertanto è stato ucciso da allora senza proprio entrare in complottismi pensate ad una persona che con cuore buono pensa di aver trovato una cura alla pandemia descritta come una delle più letali della storia dell'essere umano vede che è efficace probabilmente con una gioia immensa nel cuore ma al di là del ritorno personale anche proprio se una persona è buona e umile sente una gioia e si vede i carabinieri che adesso non mi ricordo gli hanno perquisito lo studio si vede aggredito violentemente da tutta l'informazione si vede ostacolato espropriato della sua idea che gli è stata sottratta stai tranquillo adesso ci pensiamo noi per farla morire ecco lui stesso dichiarato che è stato minacciato gli sono state fatte pressioni enormi secondo voi un essere un po sensibile come può vivere tutto ciò capire anche se sei un uomo adulto navigato con una certa esperienza non è pensabile che possa scatenarsi una depressione una tristezza un qualcosa di veramente difficile da da gestire considerando anche che sei stato sbattuto sui giornali di tutto il mondo e tu pensavi di avere un'idea di aver trovato una strada che poteva salvare milioni di persone sei stato trattato come un imbecille da combaculum ecco può essere un suicidio sì ma meluzzi perché dice è morto perché non era uno di loro perché il sistema l'ha schiacciato l'ha colpito nelle parti più profonde dell'anima ora non giudico il gesto però semplicemente posso comprendere la catena di eventi che ha portato a questo gesto e poi meluzzi dice potete uccidere un uomo ma non le sue idee quindi questa idea di cure che esistono che sono state negate un'idea di salute libera onesta capite l'articolo descrive tutto ciò come lo sporca sporca tutto ciò nel complottismo nella dietrologia suscita veramente sofferenza interiore tutto ciò sdegno rabbia ed ecco che capisco forse il gesto a qualcuno magari viene più voglia di spaccare tutto ad una persona magari più implosiva di spaccare tutto dentro di sé di morire lo capisco perché stiamo continuamente respirando bugie stanchezza asfissia ma il top lo raggiungono proprio e qui vi saluto quando scrivono plasma iperimmune una cura che di fatto non ha mai trovato terreno fertile ed è proprio questo il fattore che ha scatenato i complottisti mi sto sforzando tanto di tenere un linguaggio educato pacato un giornalista dovrebbe lottare lui per fare luce sul perché questa terapia non ha trovato terreno fertile e non dire che i complottisti hanno iniziato a pensare male è il modo per distruggere i processi onesti di giornalismo questo quindi giornalisti questi lavorano per distruggere la vera natura del giornalismo per distruggere la verità oggi chi ricerca la verità è definito complottista nella mente della maggior parte delle persone ahimè tutto ciò è penetrato e ogni tipo di dubbio e domanda si è trasformato in un qualcosa di perlomeno inutile se non dannoso rispetto alla verità ufficiale questa morte non è inutile la dobbiamo rendere noi non inutile parlatene a tutti fate leggere queste cose fate leggere questi articoli fate capire che un uomo che pensava di aver trovato una cura era disposto a sperimentarla dimostrare è stato annientato è stato silenziato questo questo è l'aspetto importante di quest'ultimo gesto del dottor de donno che non deve rimanere un gesto unicamente di una persona che non ce l'ha più fatta noi possiamo trasformarlo in un gesto utile alla battaglia che stava portando avanti e allora rendiamoci conto che una persona un giornalista che scrive questo ha fatto pensare cose strane ai complottisti ma come fai a non porti la domanda ma come mai la terapia del plasma iperimmune non è mai stata approfondita come mai siamo ancora in vigile attesa con la tachipirina come mai stiamo mettendo all'angolo schiacciando milioni di persone costringendole ad un vaccino che non sentono come mai stiamo umiliando la costituzione uno stato democratico la libertà trattati internazionali non possiamo continuare in questo modo bene ragazzi è importante continuare questa battaglia di onestà di verità di pensiero libero è l'arma più potente che abbiamo per il momento facciamo sì che la morte di giuseppe de donno sia una luce e non un altro tassello di questo puzzle di oscurità che ci stanno proponendo vi mando un carissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao